ciao a tutti ragazzi e benvenuti sullele king tv e con questo cello mi manca della raccolta di fifa 365 2021 questo oggi andremo a fare il cello mi manca e vediamo a che punto siamo con la collezione ma questo è il terzo cello mi manca dovrebbe essere il sesto video del canale quindi in teoria ci abbiamo ancora tantissime mancanti quindi a voglia te a mette figurina all'interno di questo album toccherà sicuramente prendere un altro box quindi stiamo ancora a neanche metà di un box neanche metà di un box spacchettato quindi dagli ragazzi dagli questa collezione che dobbiamo finirla anche quest'anno allora iniziamo subito con la prima figurina che è la numero 2 che va qui sopra ragazzi come al solito seguitemi anche sugli altri social tra cui instagram e tiktok e su twitch perché su twitch stiamo andando in live ci stiamo divertendo veramente tantissimo poi abbiamo la numero 28 quindi dobbiamo andare a liverpool eccolo dove troviamo la numero 28 di figurina che è ellison e adrian poi abbiamo la numero 33 che è questa esultanza poi abbiamo la 35 che è la formazione poi abbiamo la figurina numero 57 invece del manchester united poi abbiamo la numero 58 the ji by lee sempre dello united abbiamo la 63 che è matic poi abbiamo la numero 81 del manchester city che sterling grande giocatore sterling ma ne salà fernandez che adesso andiamo attaccare con l'86 poi atletico di madrid abbiamo la figura numero 96 che va qui sopra la prima figurina dell'atletico del barcellona anche la prima figurina 115 che pianice con rakitic poi abbiamo la 135 che è stefan savage dell'atletico 135 che va qui sopra poi abbiamo la 135 che è stefan savage dell'atletico 135 che va qui sopra poi abbiamo la 247 della lazio quindi saltiamo il bayern monaco e il dortmund ma anche lo schalke 04 e andiamo alle italiane e andiamo alla pagina della lazio che è la 247 inizia 247 in cui c'è stragoscia e radu 268 e bonucci 273 acerbi 273 acerbi poi andiamo all'olimpic marsiglia col 281 che ce l'abbiamo e 284 che invece ci manca che va qui in basso in cui c'è anche Strotman poi abbiamo anche la bandierina 286 sempre l'Olympic Lione abbiamo tra le tante dell'Olympic Lione anche perché ne abbiamo finito ce ne abbiamo un'altra da attaccare che è la 288 poi 314 che va qui 333 a Manpé nel Paris Saint-Germain e poi abbiamo anche la 334 che Mauro Icardi poi abbiamo la 351 del Boca poi abbiamo la 362 del Corinzia e poi abbiamo 394 sempre del Corinzia che è Ramiro ecco qui anche Ramiro è attaccato abbiamo finito le nostre figurine da attaccare su questo album per quest'oggi dico per quest'oggi perché ne abbiamo ancora tante da attaccare abbiamo trovato soltanto un doppione risultato che ci soddisfa anche se vabbè ragazzi dobbiamo insomma dire che stiamo veramente all'inizio veramente all'inizio della raccolta quindi a voi a te a pedala per finire questo album bisogna pedalare ancora tantissimo per completarlo io intanto vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti